Ok, eh? Lo zoom è questo, no? Vedi? Avvicini e allontano, guarda. Avvicini e allontano, capito? Comunque, senti che non viene piazzati in un posto... Ok. Va bene? Riordati una cosa, siccome... Riordati che se questa te vedi, la butti... Vedi, ecco, è accesa ora, non hai picciato questo, c'è sempre più che è accesa. Anche se vedi così, va fuori fuoco. Capito? Come se... Anche se vedi... Se pigi giù così, già funziona, va fuori fuoco. Va fuori fuoco e dopo quando ti vedi non c'è più nuda. Dove? Quando... Ma se pigi in che maniera? Nuda. Se te, per esempio... Cioè io, quando registro, fammi capire il mio... Quando registro è già pronta oltre, no? Perfetto di registrare, ora registri. Vengo. Però, tutta la ritenere... Siccome finisce un concorrente, devi sentire... Va bene? Sì. Te, vuoi finirla? Vuoi smetterla? Qui deve non vare. Eh. Capito? Ok. Capito? Allora, allora, ti ripeto io così almeno... No. Registrazione. Ma te tu devi accendere le recche appena comincia la gara, capito? Perché vengono di fuori, dipendono di escano... Eh, va bene, certo, sì. Poi dopo finisce il concorrente... Quando finisce il concorrente... Niente, ti viene tenendo la piazzata sempre, magari fai un po' di visuale... Sì. Per sentire il risultato della gara. Ok, d'accordo. Allora io praticamente non... Non si sia, no. Solo. Eh, appunto, di che... Il primo concorrente è 104 ore. Il quadro è pronto? Può partire. Grazie. 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 22.83 plus 5 is 27.83. 22.83 plus 5 is 27.83. Il ponteggio 22.83 seconde con 5 secondi di finalità, 27 secondi e 83. Sì, presenti il 170, si prepari il 158. Cosa è il 114 questo? Com'è? Quello di prima, quindi non lo era. 114. 170 lo c'è. 170, al 158. Se il 160 non c'è, si prepari, si presenti il 158. Vabbè, quello di 158. Ramon. Non sanno nemmeno il numero di 100. Il bello di questo. Ma è tutte le volte. Perché non si fa? Eh? Non avrà il cavallo. È Ramon, è Ramon. No, c'è il cavallo. C'è lì la torre. Non vuole entrare. C'è il cavallo. Non vuole entrare. Eh, tanto è il solito. Poi, poi cominciare a riscatarsi. Meglio che mai. Eh, lascia a farlo. Quella torna in Sicilia. Magari. Il cavallo, dicevo. No, il cavallo no, poverino. Perché deve tornare in Sicilia? C'è poca erba, è tutto arido. Loretta. Eh, no, no. Ora si deve montare. E pure? Come tutto la casa. Ok? Ma non dovrebbe neanche farlo, quel corso. No? Prostiamo la gara con il prossimo cavallo, 198, si prepari e si vedete, 198. 198, si presenti in campo, l'ha innervosita? Può partire. Grazie. Grazie. Anderio. So, John Barry, there is a problem here. This contestant entered out of order. He entered on his own out of order. And the other contestant was not allowed to see that the rosa at the right time. That's a show management decision there. If you all don't want him in order, he's not... So they can have them repeated in the right order. Be a disqualification. Be a disqualification or you all of the show committee have to decide. But he cannot run again. Oh, he cannot run again. Si, si, viene disqualificato perché lui deve entrare quando è solo. Allora, siccome lei rappresenta un po' l'organizzazione, quindi lui dice la decisione spetta alla direzione. Allora, lasciamo in sospesa. Con la direzione poi ne parliamo comunque resta squalificato. Per il momento non diamo un po' l'organizzazione. Siccome lui è entrato fuori ordine, quindi siccome non può ripetere o squalificato o si accetta o altrimenti non è squalificato. Perché doveva entrare a Stefano Bonini. The only thing, before you started this event, did you call out a working order? Sì, 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 sì. Eccoci, prima dell'inizio, appunto, avete dato un'ordine. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. That's the order that's supposed to run in. Quindi, quelle, loro devono rispettare quel po' l'organizzazione. Se loro, se gli è stato dato l'organizzazione, lo devono rispettare. Sì, loro tutti sanno gli ingressi. Sì, viene squalificato. So, their entries were drawn by lots, and they know, they were already told beforehand what order they were supposed to enter in. So, they were informed that they were supposed to enter in a certain order. So, this contestant entered, you know, out of his own decision, out of order. Okay, the one that run before, was supposed to run before him, where is he at? Why wasn't he at the gate and ready? Because I think he just got in, you know, on his own. Because this was the one who couldn't get in with the other horse. So, he changed horses, he was supposed to run last. But he decided, I think he decided to substitute horse and repeat his position with another horse. That's probably what he had in his head. Because the person in the middle is, this man had two horses. This man was running with two horses, and there was a person in the middle. So, I think he said, since I couldn't get in with the other horse, I'm going to change horses which are supposed to run after the next contestant. And use my position with a different horse. He learned to live. Yes, because the thing is that I hadn't called the next contestant yet, because I just finished giving the second of the private, the first one. And he went in on his own accord without being called. So, I didn't even call, I didn't have to call anybody yet. So, he went in on his own accord because he thought, you know, I was supposed to go before with the other horse, although he went on my own accord with his second accord. So, we're saying the first horse is disqualified because he didn't enter. The second horse entered out of order. So, this horse is so good. So, this horse did not give you time to the second horse that was chosen to be called. E quindi in questo caso deve essere squalificato, perché a tutti i concorrenti, prima di entrare in gara, viene tirato a sorte l'ordine di partenza, tutti i concorrenti sono messi a conoscenza del loro ordine, quindi se un concorrente entra fuori ordine senza essere chiamato e senza attendere la chiamata, viene squalificato. Per cui il concorrente in particolare, Salvatore Gambiano, che doveva correre con questo cavallo, Ivan Sleek, dopo il concorrente di Mario Bolini, viene usato fuori ordine e tutti i concorrenti sono messi a conoscenza. Quindi procede la gara con l'ingresso del 184. Il concorrente in particolare, il concorrente in particolare, il concorrente in particolare, il concorrente di Mario Bolini, viene usato fuori ordine e il concorrente di questo cavallo. Il concorrente in particolare, il concorrente in particolare, il concorrente di Mario Bolini, viene usato fuori ordine e tutti i concorrenti sono messi a conoscenza. Grazie. 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 Ma infatti lo è, è il suo mestiere, la riproduzione lo pagano. La tipica con il colleggio dell'ultimo concorrente, 184, 23 e 5,3 più 10 di penalità, 33 e 53 e l'ultimo concorrente, 184. I concorrenti chiamati in campo per la mediazione, 184, cavallo Roberta Anderson, di Master Ranch, montata da Stefania Pugolini. Secondo classificato, 198, Blooming Plate, di Quino Sangiolini, montato da Gino C. Secondo classificato, 198, Blooming Plate, di Quino Sangiolini, montato da Gino C. riceve il trofeo offerto dall'Associazione Italiana Pugol, insieme al premio del Blue River, lo sponsor dell'Associazione Italiana Pugol. Grazie. 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 Mentre attendiamo il centro del primo concorrente, 184, chiamiamo il prossimo concorrente, 164, seguito da 170. Next contestant, number 74, to be followed by number 170. 17.54. 17.54. 17.54, prima concorrente, si presenta il centro, 174, quando è pronto a partire. Attenzione, la senata è passata. Atteniamo il tempo di questo concorrente, nel frattempo si prepara il 170, seguito da 198. 178, 170, the next contestant, to be followed by 198. 15.60. 15.60. 15.60 per questo concorrente, si presenti il 170. 16.60. 16.60 per questo concorrente. che è successo? Il concorrente viene squalificato perché porta una votatura non approvata dall'associazione. Prima c'è l'open, poi c'è l'open. Il concorrente viene squalificato perché è uscito dal percorso. Si presenti il 158, si prepara il 148. 138, next contestant, to be followed by 114. 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 138, next contestant, to be followed by 124. La scuola è riuscita. Sì, dicono che sono solo fatti, perché naturalmente, se qualcuno non sa le regole, dovrebbe anche venire. Sì, dicono che non sa le regole, non sa le regole, non sa le regole. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo per la premiazione. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Come non lo vede a fuoco? Scusa, ma è che se punti in terra non ti va fuori di fuoco. Eh? Allora è il caffello. Se punti in terra ora ti va fuori fuoco. Ok. Ma cosa faccio? Continuo a riprendere? No, ormai fai... Faccio quell'altro, via. Il concorrente ultimo ha conseguito 16 e 80. I concorrenti sono obbligati di entrare in campo. Io non l'ho pigiato. Eh, ma se tu pigiato non entra mia... Ma non entra in fuoco? Entra in fuoco da solo. Vabbè... Il concorrente di campo 191. Quando è pronto può partire. aveva il caffello da solo. E' un casino. E' un casino. Sai che sono pericoloso le cose gialle lì? Eh? Grazie. Grazie. Primo concorrente 19-41, prossimo concorrente 158, seguito da 234. 158 in campo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. È pronto. Sì, presenti 234. Ma come Maunetto? No. Prima non l'ha fatto montare. Quando è montato li ha presi via verso i box. Nessun punteggio per errore di percorso del 234. Passiamo a 198. Di perbani 114. In campo 198. L'unica a rimanere il cervello è stata la pelle che sta apparendo. in campo 198. Grazie a tutti. Ho scelto. Ha scelto. Ha scelto. No, non sono mai scelto. Ha scelto. Eh, ma io, ma vi sta tanta di quella gente lì. 16 e 42 per 198, si presenti in campo, 114, si prepari, 170. Grazie. Brava, brava. Tanti di questi cavalli in mano a queste persone. Tanti di questi cavalli in mano a queste persone. Sono dei confetti in bocca al ciugro. Attenzione, attegliamo il tempo del primo componente di meritare il via. Aspetta, aspetta. Tempo 16 e 56. Può partire il prossimo concorrente, 170. Marino! Marino! Oh no, peccato, la feca di scala. Quindici e... Quindici e... e 84, più 5 di penalità, 20 e 84. Quanto ha fatto? Quanto ha fatto? Quanto ha fatto? Quanto ha fatto? Quindi continuiamo, 228, si prepari un seguito, 184, 228 in campo. Quanto ha fatto? Aspetta, 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 ti metta! Aspetta, aspetta, ti metta! Aspetta, aspetta, ti metta! Aspetta, ti metteranno pronti i cronometri! Dunque, il tempo precedente del 228 è 167 e 57 e in campo 184 si prepari 174. Il letto 84 può partire.